La politica agricola comune, così come è stata designata dalla Commissione e da questo Parlamento, non ha avuto l'impatto aspettato. Corruzione e criminalità organizzata hanno gestito l'implementazione dei pagamenti diretti in molti Stati membri, tra i quali l'Italia, specie se si tratta di lobby agricole che assieme ad esperti regionali e consulenti politici hanno sfavorito le PMI del settore. Come il commissario designato pensa di risolvere questo problema? Come verranno gestite le distribuzioni dirette agli agricoltori? Chi garantirà e come che i modelli di distribuzione non cedano ad interessi criminali e clientelari, così come avvenuto e sta avvenendo per esempio tutt'oggi in Italia? Esistono sistemi di sanzioni efficaci da poter applicare contro tali abusi? Inoltre, come intende tutelare dalle truffe le produzioni locali e nazionali come per esempio i made in Italy? Non ero consapevole delle difficoltà amministrative, nello dispiegamento dei sostegni finanziari e di implementazione dei programmi per quanto riguarda la pressione criminale politica che abbiamo avuto. Comunque, sarò lieto di saperne di più quando si tratta della futura implementazione delle politiche. Comunque, per quanto riguarda la PAC abbiamo cercato di ripetere i modi per poter nutrire la popolazione europea in primo luogo e poi cercare di aiutare l'alimentare la popolazione mondiale in futuro, dell'aumentata pressione alimentare, con l'aumento della popolazione mondiale planetaria e con le conseguenti pressioni ambientali. Sono consapevole della scarsità di risorse e dei problemi di cambiamento climatico. Quindi, per quanto riguarda la flessibilità dei programmi di sviluppo orale, faremo del nostro meglio, nello secchio del principio di sussidiarietà, proprio per gestire i problemi nelle singole aree. Non basta una soluzione del tipo taglia unica. e quindi, nei programmi, speriamo che sulla base della valutazione potremo assistervi con le unità istituite nella Commissione per essere i singoli stati membri nell'implementazione. Se c'è una difficoltà, sicuramente lei potrà segnalarcele, perché possiamo poi intervenire ad hoc per garantire la massima assistenza. Grazie a tutti.